Nel cuore di Parma c'è qualcosa di più grande di quanto immaginassimo. Scoprire, soprattutto dopo essersi avvicinati con una dose di scetticismo un po' snob, il complesso monumentale della pilota è un'esperienza che restituisce un senso vero a frasi che credevamo essere state definitivamente consumate dall'abuso, come quella che l'Italia è una miniera di tesori d'arte. Perché la nuova istituzione, figlia della riforma dell'ex ministro Franceschini, ha unificato cinque istituti, la Galleria Nazionale, il Teatro Farnese, la Biblioteca Palatina, il Museo Archeologico e il Museo Bodoniano. E in questa nuova coesione ha ripreso forma un progetto enciclopedico che voleva essere una sorta di summa dell'immagine che l'Occidente aveva e proponeva di sé. Oggi, sotto la direzione di Simone Verde, la pilota fa sentire il respiro di un museo internazionale. Basti pensare alla luce che illumina l'aria allestita alla nord della galleria e il senso di un importante progetto in divenire. In questo lavoro di rallestimento abbiamo in 24 mesi aperto 10 nuove sezioni, riqualificato una cosa come 10.000-12.000 metri quadri, messo in mano i cantieri fondamentali, quelli della sicurezza, ovviamente dei depositi, e anche lanciato tutti quei cantieri che permetteranno al Museo di questa vastità di avere dei servizi al pubblico. Il progetto, si capisce, è vastissimo e la forza di alcuni luoghi, come il Teatro Farnese o la Biblioteca Palatina, compensa anche le sezioni più chiaramente legate alla realtà locale parmigiana. Ma tutto quello che possiamo dire o scrivere, alla fine, può solo convergere verso un dipinto semplicemente straordinario, la scapigliata di Leonardo da Vinci, un capolavoro assoluto, cui ora è dedicata alla pilota una mostra specifica, ma che da sempre è nella collezione del museo. Cioè è sempre stata a Parma e molti di noi non lo sapevano. È uno dei pezzi più importanti che noi abbiamo in collezione. Il volto, senz'altro, di questa misteriosa signora, che qualcuno ha addirittura definito l'altra gioconda, è estremamente iconico, permette di riassumere, direi, tutto l'ideale di bellezza del Rinascimento italiano in questa perfetta armonia che si vede anche nella resa degli affetti di questo volto concentrato, un po' malinconico, tra uomo e natura, che è appunto, che era per l'appunto l'obiettivo delle ricerche degli attesti del Rinascimento. Al dipinto, così come a molti altri della galleria, il direttore e il suo staff hanno ridato una cornice adeguata per un'operazione di filologia artistica molto chiara. Nel Rinascimento la cornice era parte essenziale dell'opera e toglierla, come è successo spesso nei secoli successivi di museificazione, era una vera e propria amputazione del dipinto. E guardando il volto perfetto della scapigliata, sembra impossibile che a fare notizia siano state le polemiche sull'acquisto della cornice, piuttosto che l'assoluta magnificenza di ciò che la cornice contiene e il fatto che, in qualche modo, qui a Parma c'è davvero un'altra gioconda o comunque un'opera che nulla ha da invidiare al gioiello vinciano del Louvre, se non probabilmente due secoli di comunicazione più efficace. Ma adesso è venuto il momento di cominciare a colmare anche questo divario. Grazie a tutti.